Ciao, sono Teresa Montesarchio ed oggi con lo sbrogliamente vedremo 4 curiosità sull'orgasmo che non conoscevi. Cominciamo. Curiosità numero 1. L'orgasmo può essere raggiunto anche senza stimolazione genitale. In letteratura sono noti diversi casi, come quello di una donna che radungeva l'orgasmo attraverso la stimolazione del sopracciglio, di un'altra che lo aveva ogni volta che si lava le denti e di una che riusciva a raduncere l'orgasmo con il pensiero. Curiosità numero 2. È possibile provocare orgasmi in persone cerebralmente decedute che hanno ancora una lieve attività cardiaca e di cui organi sono mantenuti artificialmente ossigenati per il trapianto. Ciò è possibile provocando attraverso un elettrodo la stimolazione di un punto preciso lungo il nervo sacrale. Questo provoca anche il riflesso motorio nella persona decennuta, chiamato riflesso di Lazzaro. Curiosità numero 3. Per un'ora dopo il rapporto sessuale, nell'alito della donna è percepibile un lieve odore di sperma. Curiosità numero 4. L'orgasmo può curare il singhiozzo persistente. Io sono Teresa Montesarchio e questo è lo Sbrogliamente e se vuoi saperne di più su Mente e Cervello, clicca mi piace sulla pagina Facebook. Ciao!